ciao a tutti ragazzi siamo tornati su vrc7 pronti per continuare da dove abbiamo lasciato oggi allora abbiamo demolito la macchina nel giorno 2 della francia e adesso siamo nel giorno 3 ragazzi dobbiamo provvedere alle riparazioni che sarà molto dolorosa la questione allora il motore proviamo a ripararlo lo sterzo anche il cambio direi che possiamo risparmiarci questi minuti visto che va ancora abbastanza bene i freni sarebbero da fare perché ormai la macchina non frena più niente e le gomme assolutamente da cambiare sospensioni ai 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 superiamo i 10 secondi vediamo se riusciamo a togliere leggermente un po i freni e metterlo in sospensioni ok carrozzeria non ci provo neanche ragazzi ce la teniamo scassata così com'è che tanto quello che contano sono le prestazioni allora ok confermiamo ragazzi siamo pronti partiamo ragazzi TS 5 pronti per partire sono 7 chilometri e 58 tutto asfalto e c'è il sole ragazzi c'è il sole benissimo iniziamo ragazzi attenzione si parte subito inestiamo la prima freno a mano tirato spalanchiamo gas via 20 destra 6 in sinistra 3 chiude tossi 100 in sinistra 7 in destra 5 in cima in sinistra 8 stringi in destra piena corta in sinistra 4 sopraponte 40 attenzione frena secca destra tagliare e sinistra 6 corta 30 in sinistra 4 chiude lunga 30 in sinistra 4 chiude lunga 30 in sinistra 3 chiude 2 30 sinistra piena chiude 6 in sinistra 5 in sinistra 5 apre in sinistra 5 apre sinistra 1 apre trezza taglia in destra 7 chiude 3 porta in sinistra 2 e attenzione in sinistra 4 chiude 3 in sinistra 4 chiude lunga e destra 7 in sinistra 3 non tagliare in scicam sinistra non tagliare in un nel 30 destra 6 in sinistra 6 50 destra 2 apre in sinistra 4 porta 30 destra 4 porta spingi in cima in sinistra 5 apre in destra 6 in sinistra 7 in destra piena in destra 5 su dei 3 lunga 40 in sinistra 3 molto lunga in destra piena su cima 30 destra 9 20 in freno pesante sinistra piena in destra 2 lunga chiude in destra piena esagerato con la scalata ragazzi sinistra 3 lunga chiude in sinistra piena in destra piena in sinistra 3 non tagliare corta destra piena sinistra 7 chiude 3 50 cima in sinistra 3 corta 40 sinistra 5 corta spingi in destra 3 chiude spingi in sinistra 7 corta in destra 4 corta in sinistra 8 30 aia sinistra 7 30 destra 9 corta in tornante sinistro lunga contro pendenza in sinistra 7 in destra 8 in sinistra 7 e destra 6 chiude 4 corta in tornante aperto destro in sinistra 7 30 destra piena 40 sinistra 8 in taglia 40 destra 7 curta 30 sinistra 4 freno pesante chiude 1 in taglia 40 in destra 8 e sinistra 7 e destra 3 chiude e sinistra 2 curta e destra 3 30 attenzione sinistra 4 frena in destra 1 sinistra 4 frena chiude 1 in destra 8 porta chiude 4 e sinistra 8 in taglia frena tornante destro non tagliare in sinistra 8 in destra 8 e sinistra 3 apre in destra 7 e destra 4 lunga apre 30 destra 7 chiude frena e tornante sinistro 30 non agli sinistra 8 non si chiude 50 destra piena 60 attenzione freno pesante secca destra ringe sopraponte 30 secca sinistra allarga 30 in sinistra 9 in destra 5 chiude in sinistra 3 curta in destra 7 curta non tagliare 100 completato oh la la mamma mia ragazzi è stata pesante però gli abbiamo dato 36 secondi a Jerry Matti Letpala ok grande quarta posizione siamo saliti di una posizione fortunatamente abbiamo l'ultima tappa del giorno 3 per concludere così il to the course in Francia 5 km 0.3 una tappa veramente corta qui a quanto pare sta pericolando un pochettino e quindi dobbiamo stare attenti ragazzi che adesso si scivola soprattutto perché sta piovendo poco e sarà tipo come sapone per terra bene siamo pronti mamma mia come ti scordesso e destra 7 in Italia 30 sinistra 4 stringi non tagliare in destra 8 stringi e sinistra 2 apre non tagliare e sinistra 4 chiude in destra 3 50 sinistra 8 stringi tossi in destra 5 40 sinistra 5 corta chiude in destra 3 50 sinistra 2 corta e destra 8 e tornante stretto destro non tagliare e sinistra 9 largo 50 sinistra 3 in destra 6 100 destra 8 curta e sinistra 3 50 taglia lunga 100 tossi sinistra 3 lunga chiude non tagliare in taglia e sinistra 3 tossi in destra 6 non tagliare 70 destra 3 curta 30 destra 5 chiude 3 sinistra 3 apre sinistra 4 apre lunga 30 taglia 40 destra 2 apre 40 sinistra 5 no 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 non cadere al pedo ragazzi destra 5 in taglia lunga destra 5 chiude 3 in sinistra 7 50 destra 6 frena in sinistra 3 in destra 5 chiude 2 in sinistra 4 curta 30 sinistra 4 curta in destra 5 apre 40 tornante sinistro chiude 50 sinistra piena e tornante destro non tagliare 60 dai cazzo scusate ragazzi non tagliare ma non andare manco fuori che disastro che disastro la francia ragazzi curta 30 attenzione secca sinistra 30 ringe no si e sinistra 6 chiude non tagliare e destra 9 50 destra 5 no si no si curta 30 pista 4 40 destra 5 curta no si non tagliare 50 in completato sempre verso la fine comincia ad andare meglio ottava posizione ragazzi non c'è pezza non c'è pezza quinto posto non siamo neanche sul podio siamo siamo passati al secondo posto ragazzi ci hanno fregato abbiamo pochi punti di differenza 8 punti di differenza ci hanno fregato questa volta ragazzi niente concludiamo qui ragazzi e ci vediamo alla prossima puntata non mancate mi raccomando di lunedì prossimo alle ore 14 con il rally d'argentina e qui so cacchi ragazzi e niente grazie a tutti ciao ragazzi